Banca Popolare del Lazio, la banca dove vuoi tu, con sicurezza e un approccio multicanale che ti fa gestire tutte le operazioni dal tuo smartphone, oppure dal tuo pc, con una piattaforma di home banking facile e intuitiva per te o per la tua impresa, o magari con la tua voce al telefono, con un consulente dedicato che ti permetterà di effettuare ogni operazione tramite la banca telefonica. Vieni a trovarci in filiale, perché la relazione personale con i nostri clienti è e rimane il nostro punto di forza. Banca Popolare del Lazio, la banca che ti è più vicina.